adesso ha fermato ira sta in bufalita perché gli è partito una lepre stava inferocita è partito una lepre perché queste potrebbero essere restarne di nuovo potrebbero essere però sta bene non le vedo queste sono venute qua hanno preso strada e puoi avere ira la cagna sta bene la cagnettina sta bene vediamo vediamo bravo bordo se stanno lì ti lascio stanno se non ci stanno se ne sono andate no se stanno stanno a bordo a bordo se no se ne sono andate se ne sono andate non lo so non ne vedo fu pulito quindi fermo bordo fermo vedo io vedo io fermo fermo anche tu hai sentito magari fossero mica per niente con la cagnettina non possono stanno sarebbero già volate non sono andate queste ripetine già il cane fermo da almeno cinque sei minuti non mi aveva suonato adesso l'ho visto sono spuntone vado a vedere immobile ira non saprete anzi sa quanta strada sta raggiungendo il canalone no sta tornando ira mi sa che sta sotto in ferma allora ecco perché non mi suonava c'è ira sotto e allora non c'è più è tornata da qui bravo a bordo non c'è più a lui lui o è lei una parola o l'isterne tre bravo bolt bravo bolt bravo bolt bravissimo bolt in mezzo agli spini bravo bolt bravo bravo bolt non le vedevo che stavano proprio in mezzo alla palacca va bene va bene bravi